E' stata l'ultima tessera per completare il mosaico della nuova Modena Volley, un ingaggio che a febbraio sembrava impossibile che sia invece concretizzato in estate. Nimir Abdelaziz, opposto olandese specialista degli A's, è assieme a Johan Di Leal l'unico vero volto nuovo per i tifosi del Palapanini. Accanto ai grandi protagonisti di ritorno, Bruno, Angapette e Rossini, Katia Pedrini e Andrea Sartoretti hanno regalato a coach Andrea Gianni altri due attaccanti formidabili. E dire che Nimir pareva ipotesi non percorribile, visto che a inizio 2021 aveva rinnovato per tre stagioni con Trento. Loro hanno comunicato dopo i finali di Champions a mio procuratore che ero libero di cercare un'altra squadra. Dicevano che il budget non so, alla fine non ho capito ancora molto bene, però non importa, è il passato. E poi da lì, quando è scelta la notizia che ero sul mercato, mi sono sentito subito con Sarto e Katia. Alla fine lì è andata molto veloce perché sapevo che squadra c'era, sapevo chi erano, sapevo che c'erano tanti dei miei amici che li sentivo già ogni giorno, anche non giocando con loro. Allora non era poi una scelta molto difficile. La priorità dell'opposto olandese dopo lo sbarco a Modena diventa allora trovare il giusto feeling con Bruno, palleggiatore con cui mai Nimir Abdelaziz ha giocato in carriera. Ma secondo me non sarà difficile perché tutti conosciamo Bruno, ha giocato ovunque, ha vinto di tutto, allora non credo che sarà difficile trovare la palla con lui. A proposito di Bruno, toccherà al regista brasiliano gestire, con una distribuzione in equilibrio tra tecnica, tattica e psicologia, la straordinaria batteria di attaccanti a disposizione. Questi sono affari di Bruno, ci deve pensare lui. Noi siamo lì, vogliamo tutti quanti attaccare e lui è la regista dell'orchestra, allora su questo fa tutto lui. E poi alla fine, se è una squadra così, il nostro obiettivo è vincere la partita. Allora se io attacco una palla o 30 non mi importa perché alla fine guardiamo solo i risultati della fine partita.